Questa mattina il quotidiano Il Resto del Carlino ha pubblicato una pagina, la vedete, nella quale ripercorre la vicenda delle spese pazze in regione. Cinque anni, dal 2008 al 2012, di cene, viaggi e grandi banchetti natalizi per un totale di 1.200.000 euro. L'accusa per tutti è di peculato, tra l'altro è stata fissata per il 16 maggio l'udienza preliminare davanti al GUP. In queste foto, come si vede in basso a destra, c'è finito anche l'ex consigliere all'epoca in forza alla Lega Nord, Roberto Zaffini, che questa mattina, quando ha visto il giornale, ha un po' sbottato. E Roberto Zaffini è qui con noi in studio e al quale chiedo subito perché è finito in questo puzzle di foto. Non è la prima volta che vedo sempre la foto, però nel pezzo interno, nell'articolato, nell'articolo del giornalista, non c'è mai una chiarificazione del perché c'è la mia foto. Quindi questo, secondo me, è una scorrettezza enorme perché io reputo il mio coinvolgimento in questa vicenda assolutamente fuori luogo. Spiego perché. Perché quello che mi si contesta è la mancanza di un foglio che dichiara l'incarico per una piccola consulenza di 250 euro al mese per due mesi, quindi 500 euro in totale, non viene contestata la cifra né la legittimità di questa micro consulenza, ma viene appunto contestata la mancanza di questo foglio di incarico che solitamente per cifre così piccole era sufficiente l'addizione che era messa nella fattura per giustificare la spesa. Ma non è solo questo. Ma perché non l'ha firmato questo foglio, se c'era bisogno di questo foglio? Perché io non ero delegato a farlo, perché questa cosa competeva il capogruppo, quindi io sono in concorso. Ma c'è ancora un'altra cosa più eclatante, che quando si è perfezionata questa micro consulenza, io non ero, ero sospeso dal consigliere regionale perché ero a Roma, quindi non ero lì, nemmeno quando si è svolta tutta la prima parte di questa piccola consulenza e non ero, insomma, sono completamente estraneo. È per questo che io la prima volta sto zitto, la seconda mandi giù, però quando si continua a usare un metro che tutti sono coinvolti non mi sta bene, allora io questa mattina ho sbottato, e ringrazio a te per avermi dato questa opportunità di chiarezza, perché io, ma sotto i gabucini, i miei amici attempati che mi dicono, ma cui fa Zafo, cucumbini Zafo, ma laggiù, cucumbinat. E io oggi spero di aver chiarito che non ho assolutamente nulla, nessun guaio, perché qui anche il titolo dice, è molto pesante, cena e viaggi, pesare di guai. Io non ho fatto nessuna cena, nessun viaggio, sono stato estremamente corretto, forse le scorrettezze in questo caso le ha fatto qualcun altro.